Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con le parole del sindaco Luigi Brugnaro che ha deciso di manifestare pubblicamente la sua vicinanza a Sanuara Sarder, la donna offesa e picchiata nei giorni scorsi in via Longhena a Marghera perché indossava il niqab. Esprimo la mia solidarietà a tutta la comunità islamica per l'aggressione a Sanuara, un episodio terribile che non solo va fermamente condannato ma che dobbiamo impedire possa ripetersi in futuro. Esprimo anche la mia ferma condanna per il camion con l'immagine di Mussolini e la scritta Duce che martedì è arrivato a Venezia e ha attraversato il Canal Grande su una chiatta. Il sindaco di Venezia ha aperto così il Consiglio Comunale di ieri informando successivamente l'Assemblea di Caffarsetti di aver incontrato in mattinata il presidente della comunità islamica per esprimere il sostegno e la vicinanza di tutta la città. Rispetto al tir con l'immagine di Mussolini che ha attraversato il Canal Grande fino a raggiungere l'hotel Bauer, Brugnaro ha poi aggiunto La comunità veneziana che ha vissuto in prima persona l'atrocità delle regi razziali non può in alcun modo accettare che si offenda la sua storia e la memoria dei cittadini deportati e uccisi nei campi di concentramento. Il camion posizionato sulla chiatta di notte è stato fatto allontanare dalla città e non potrà mai più farvi ritorno. Sono scattate questa mattina le denunce rispettivamente per furto aggravato e per il reato di indebito utilizzo di carte di credito rubate per una 48enne originaria di Porto Gruaro e il marito un 50enne nativo di Verona. I provvedimenti sono scattati a seguito della vicenda che ha visto vittima un'anziana signora Vicentina derubata al mercato di Valdagno il 5 agosto scorso. La radra era riuscita a sottrarle infatti dalla borsa il portadocumenti in cui era contenuta anche la tessera bancomat della signora. La stessa carta che è stata poi utilizzata dal marito complice per effettuare dei prelievi allo sportello per un totale di 2350 euro. A partire dalla denuncia esposta dall'anziana i carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato a individuare i presunti responsabili. Ma non è tutto, gli agenti hanno inoltre scoperto grazie alle registrazioni delle tre camere di videosorveglianza che il giorno precedente la stessa 48enne aveva messo a segno un altro furto in un supermercato di Recoaro Terme rubando ad un cliente un portafoglio contenente oltre 500 euro. Cambiamo ora argomento e spostiamoci a Marghera dove la Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato due uomini mentre tentavano di rubare gasolio presso un importante deposito costiero. Il fermo è arrivato al termine di un'indagine condotta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria che ha portato a individuare un dipendente del deposito di carburante il quale, dopo aver manomesso i contatori volumetrici la cui integrità era tutelata da sigilli di Stato, sarebbe riuscito a sottrare dal deposito oltre 13 mila litri di gasolio. Il bottino sarebbe poi stato caricato su un'autocisterna di proprietà di una società di trasporti. I due indagati, il dipendente del deposito e un impiegato della società di autotrasporti sono stati quindi arrestati con le accuse di furto, sottrazione al pagamento della CISA di prodotti energetici e violazione dei sigilli. Le fiamme gialle hanno inoltre proceduto al sequestro del gasolio e dell'autocisterna su cui era stato caricato il prodotto rubato. Le successive perquisizioni, estese anche alle abitazioni dei due, hanno portato inoltre al sequestro di più di 19 mila euro in contanti. Comincia oggi il biennio di riorganizzazione aziendale alla San Benedetto di Scorzè, una avvertenza che interesserà ben 170 lavoratori, di cui 150 fra addetti alla produzione e all'amministrazione nella sede principale e oltre 20 dipendenti di paese. Dal 1 gennaio prendono in via l'automazione e la digitalizzazione dei processi e anche la cassa integrazione per la monodopera, che prevede un 20% lordo di stipendio in meno, giustificato da minor carico di lavoro. Si tratta di una rigenerazione del gruppo numero uno del Beveraggi in Italia, che durerà fino al 31 dicembre del 2024. Il tavolo di contrattazione è ancora aperto, spiega la segretaria della categoria sindacale Flai CGL, Teresa Guarinna. Quello che ci interessa è la garanzia di ricollocazione di tutto il personale al termine dei lavori, sapendo che l'eventualità di esuberi alla fine di questo biennio non è stata negata dalla dirigenza. La transizione tecnologica e l'implementazione delle intelligenze artificiali comportano una contrazione dei posti di lavoro, ma le conseguenze non possono e non devono ricadere esclusivamente sui lavoratori e le loro famiglie. La Flai CGL ritiene che in San Benedetto ci siano le condizioni per una riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti e una ricollocazione di tutti. Il sindacato ha chiesto anche una maggiore trasparenza delle informazioni e una migliore integrazione economica rispetto a quella proposta dall'azienda. Queste sono le condizioni imprescindibili per firmare l'accordo. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto con lo sport. Incredibile vittoria per l'Uman Rayer Venezia contro il Routronic Star Skelterna nell'ultima partita del girone H di Euro Cup Women. Le Euro Granata si sono imposte con un chiaro 65-94 finale, chiudendo da imbattute la prima fase della competizione europea con sei vittorie in altre tante gare giocate. Siamo felici e soddisfatti di aver concluso il girone con sei vittorie in altre tante partite in condizioni spesso difficili, dichiara il sito ufficiale del club veneziano La Cocce Omazzon, che aggiunge Oggi le nostre leonesse hanno dimostrato di avere una gran voglia di giocare. Il lavoro che facciamo ogni giorno ci ha permesso di conquistare la prima posizione in Europa e non è un trofeo o una coppa, ma la soddisfazione di averlo fatto con la squadra più giovane di tutto il lotto dell'Euro Cup. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti i nostri spettatori